Ciao a tutti, benvenuti nel mio primo vlog. In questo video parleremo del lavaggio e di come prendersi cura della propria moto. Iniziamo! Il primo passaggio è il lavaggio in maniera tale che togliamo lo sporco superficiale. Il secondo passaggio riguarda la pulizia più intensiva. Usiamo un detergente, attenzione però non usare detergenti troppo forti che potrebbero rovinare plastiche. E' ora passiamo a richacqua. Iniziamo! 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 Quanti裏 debti trovieri.. Iniziamo! Iniziamo! Scoiava! Improviamo! Oh no! Iniziamo! Iniziamo! Grazie a tutti. Il prossimo passaggio è l'asciugatura. Una volta eseguita l'asciugatura usiamo un grasso nei punti tipo pedaline il puntalino del freno dietro il calcio e un puntino del cambio. Ora procediamo con lo smontaggio del filtro e della pulizia di esso. Una volta tolto il coperchio e la plastica di protezione avremo il filtro. Nel mio caso si trova in questo punto la cassa filtro in altre moto si potrebbe trovare in altri punti. Eccolo qua. In questo caso non è troppo sporco ma lo puliamo lo stesso. Ora dopo aver pulito filtro, aria e averlo ingrassato e aver pulito la cassa filtro procediamo nel rimontaggio e ci vediamo poi dopo con l'ultimo passaggio ovvero l'ingrassatura della catena. Ora siamo arrivati all'ultimo passaggio ovvero l'ingrassatura della catena. Io uso questo tipo di grasso qua voi potete usare il grasso che volete e anche quelli spray che vanno benissimo. e anche che vanno benissimo. Grazie a tutti.